Buongiorno, a nome di KPN vi do il benvenuto su questa splendida terrazza, sede dello studio legale LX20 Law Firm, di cui Alessandro Negri della Torre è il fondatore. Buongiorno Alessandro. E ho il piacere di dare il benvenuto anche a Roberto Garavaglia, Innovative Payments and Blockchain Strategic Advisor. Buongiorno Roberto. Oggi faremo una chiacchierata sul metaverso che verrà per capire quali monete, sistemi di pagamento e strumenti finanziari useremo. Iniziamo con le domande di questa intervista. Roberto, quali saranno le monete che utilizzeremo nel metaverso? Sì, la domanda è interessante e penso sia opportuno magari rifare una riflessione pensando alle polis greche che potremmo oggi in qualche modo considerare come delle strutture, degli ordinamenti politici autonomi rispetto al governo centrale. Ecco, questa valutazione in capo appunto alle polis greche io la porto con facilità nel mondo del metaverso dove chiaramente la polis greca è il o sono i land. Bene, all'interno dei land vivono delle proiezioni dell'individuo che sono i cosiddetti avatar i quali si relazionano tra di loro. Quindi abbiamo avatars che si relazionano in un contesto che mi piace dire essere socio-economico. Bene, siccome stiamo parlando quindi di un contesto socio-economico, meglio di un'economia delle relazioni, qui intendiamo diciamo l'economia proprio nel suo significato primigenio, quindi come scienza che studia il fabbisogno attraverso lo scambio evidentemente. Qual è la moneta di scambio che può essere utilizzata all'interno di un land? Esattamente un po' come poteva essere nel caso delle polis. Chiaramente è una moneta virtuale, una criptovaluta, però attenzione qui c'è un aspetto importante. La moneta, se deve assolvere alle tre funzioni principali, deve necessariamente essere una moneta scarsa. Come possiamo quindi portare il concetto di scarsità della moneta nel metaverso, in un luogo appunto virtuale? Beh, lo facciamo con le criptovalute. Le criptovalute sono criptouniche e la loro caratteristica di supply della moneta, della criptomoneta, è interessante capire quale potrebbe essere in un metaverso, ora molto brevemente sappiamo che esistono almeno due modalità di supply, una legata a dei meccanismi di proof of work, come quella ad esempio dei bitcoin, che però è molto energivora. Questa è una supply di moneta che chiamiamo comunemente mining. C'è un'altra supply invece che è quella del mining che si basa su sistemi diversi dalla proof of work, che sono i sistemi di proof of stake, sono sistemi molto meno energivori, più green e che quindi penso possano dal punto di vista della supply essere dei sistemi che si utilizzino o che si potranno utilizzare nel metaverso. Quindi in definitiva, per rispondere alla tua domanda, token non coin, token chiaramente fungibili, utilizzabili come mezzo di scambio e token non fungibili, quindi NFT ad esempio come strumenti che possono in qualche modo dare o conferire una riserva di valore. Alessandro, quali sono le sfide legali e regolamentari legate alla creazione e all'utilizzo dei token nel metaverso? Grazie per la domanda. Intanto forse conviene fare una riflessione sulla capacità del metaverso di ospitare azioni umane che hanno un significato legale, un significato giuridico. Questo perché ci piace pensare che la realtà è governata da norme, questa lo sappiamo benissimo e in qualche modo gli spazi virtuali non è così chiaro se effettivamente siano governati da norme e anche se noi ammettiamo che esistono le norme, dobbiamo capire quali queste sono. Allora, diciamo che la prima riflessione che voglio fare è che lo spazio virtuale permette azioni umane. Noi possiamo comportarci in un spazio virtuale e compiere quelli che sono atti umani a tutti gli effetti perché possiamo trasmettere la nostra buontà, possiamo muovere il nostro avatar e quindi trasmettere informazioni. Possiamo trasmettere informazioni anche con l'audio, con messaggi di testo, possiamo compiere delle azioni che poi con quei metaversi che sono ancorati, legati alla blockchain, permettono ad esempio il trasferimento di criptovalute. permettono il trasferimento di token. Secondo la regola di funzionamento dell'ambiente virtuale noi possiamo creare dei token, possiamo distruggere dei token, possiamo insomma operare in maniera efficace all'interno di questi spazi virtuali. Poiché alla base dell'atto giuridico c'è l'atto umano, allora noi dobbiamo di nuovo, partendo dal presupposto che è possibile compiere un atto umano, dobbiamo giustamente arrivare alla conclusione che è possibile compiere atti giuridici all'interno del metaverso. Qual è il legame con i token? Noi, come dicevamo prima, possiamo creare, trasferire, distruggere, compiere anche altri atti che hanno d'oggetto token virtuali. Così come nel mondo reale la questione è qual è il significato legale del token? Quali sono i diritti incorporati? Perché sappiamo benissimo che noi possiamo incorporare i diritti finanziari e non finanziari. Possiamo creare dei token che sono meri strumenti come dire, di certificazione di un dato informatico, ancorché magari nel suo output generato una funzione di hash, possiamo legare il token invece a qualcosa di molto più complesso come potrebbe essere un prodotto finanziario. Quindi se ammettiamo tutto questo, allora qual è la più grande sfida che noi abbiamo? La prima è sicuramente capire qual è il significato del token all'interno del metaverso. Da un lato abbiamo le regole dell'ambiente virtuale, quindi l'ambiente virtuale ci dice che cosa noi possiamo fare, quali token possiamo creare, come possiamo utilizzarli, come possiamo trasferirli. Quindi se vogliamo c'è un primo strato, un primo layer di norme che sono quelle dell'ambiente virtuale. Un secondo layer è quello però degli ordinamenti all'interno dei quali sono situati i soggetti, quindi risiedono, hanno domicilio quei soggetti che operano all'interno dell'ambiente virtuale. Ecco quindi che abbiamo una situazione molto complessa, perché abbiamo magari la possibilità di creare un token che ha un determinato significato, funziona all'interno dell'ambiente virtuale, però magari quel token, facciamo un esempio, ha una componente finanziaria, ecco che secondo l'ordinamento di appartenenza di colui che ha creato questo token, dei soggetti che hanno creato questo token, ecco che magari quel token ha una valenza diversa, magari è visto, può essere qualificato come un prodotto finanziario e allora tecnicamente potrebbe anche concepiresi l'applicazione delle norme nazionali su quel token, su quell'emissione. Quindi le sfide legali e regolamentari del metaverso si basano su un approccio multistep. Il primo è innanzitutto individuare quali sono le regole applicabili all'ambiente virtuale e poi cercare di capire al meglio come quelle norme, spesso norme tecniche, vanno a parlare con quelle che sono le norme di diritto e quindi in che modo noi possiamo qualificare quei token da un punto di vista degli ordinamenti nazionali. Diciamo che cominciamo ad assistere alla creazione di ambienti virtuali particolarmente complessi dove abbiamo un insieme di norme già inserite, già fisiologicamente caratteristiche di quell'ambiente e quindi potremmo quasi concepire un diritto proprio del metaverso. Roberto, come pagheremo e in che modo potremo incassare nel metaverso? Bene, nel metaverso, ricongiungendomi anche a quanto dicevo poc'anzi, utilizzeremo non certo il contante, non possiamo ovviamente pensare di farlo e se ci pensiamo è anche difficile immaginare l'utilizzo di strumenti come i bonifici o le carte di credito che malsattagliano a un governo decentralizzato. Non dimentichiamoci che stiamo chiaramente parlando di un sistema, quello del metaverso, che se funziona si basa appunto su una logica fortemente decentralizzata. Quindi come possiamo pagare e come possiamo incassare? Ancora una volta la risposta è con delle criptovalute che tuttavia, è opportuno rimarcare, rimarcare, devono poter possedere un valore stabile nel tempo, se no non possono chiaramente essere utilizzate come moneta di scambio. E quindi ci viene incontro, secondo il mio punto di vista, il concetto di stablecoin, quindi di valute digitali gestite con un sistema sempre riconducibile alla scarsità digitale, alla criptonicità di cui parlavo prima, ma che vengono stabilizzate nel loro prezzo grazie a dei sistemi di collateralizzazione esterni. Gli stablecoin quindi possono, a mio avviso, fungere, nella accezione più corretta di questo verbo, a moneta di scambio e possono, oltre che essere ovviamente fungibili, inserirsi in quel contesto o in quei contesti regolati da degli smart contract, dove è necessario avere una moneta che sia programmabile. Cosa intendo con moneta che sia programmabile? Una moneta che nello scambio possa inscriversi in una regola che è quella dello smart contract che regola il negozio giuridico che si sta compiendo nel metaverso. Questo ci permette, e concludo, di realizzare con successo e anche in efficienza, a mio avviso, quello che è il concetto di delivery versus payment, che se ci pensiamo in una logica, qual è quella del metaverso, decentralizzata, basata su blockchain, su registri distribuiti, è l'unico sistema che può venirci incontro per avere quella garanzia di delivery versus payment in assenza di un'autorità centrale, quindi in assenza di un datore di fiducia centrale e dove quindi si è tutti ovviamente concordi di doversi fidare di un algoritmo. Alessandro, è possibile compiere atti giuridicamente validi nel metaverso ed effettuare pagamenti aventi effetto liberatorio? Sì, diciamo che bisogna anche qui partire da un po' quel concetto che dicevo, che ho introdotto nella risposta alla prima domanda. Se noi ammettiamo la possibilità di avere dei comportamenti umani all'interno del metaverso, allora ammettiamo, e questa è una conseguenza logica ma anche giuridica, che è possibile compiere atti giuridicamente validi all'interno del metaverso o, quantomeno, atti che hanno un significato, una valenza giuridica. Ricordiamoci anche però che il vero significato di un atto, quindi il modo in cui quest'atto è inquadrabile e ha effetti giuridici dipende da una norma che ci permette di classificarlo. Così, se io esprimo la volontà di trasferire la proprietà di un bene, allora è una norma o un insieme di norme, un principio di inordinamento che ci permette di dire che quella manifestazione di volontà è idonea a trasferire quel diritto di proprietà. Quindi c'è bisogno però di un contesto normativo, di un insieme di regole. Vediamo già che in alcuni ambienti virtuali sono in corso degli atti e dei comportamenti con un effetto giuridico. In alcuni casi sono atti positivi, fisiologici, in altri meno. Abbiamo avuto anche degli episodi di atti violenti all'interno del metaverso che, secondo le regole di un ordinamento, e qua la domanda sta a noi chiederci quale sia questo ordinamento e quindi in che modo poi noi possiamo classificare e contrastare un certo tipo di comportamenti, ecco, hanno una rilevanza anche penale. Se però passiamo più a, come dire, l'aspetto fisiologico, quindi non patologico dell'interazione umana, allora sì, una conseguenza logica di quello che ho detto poc'anzi è che è possibile compiere atti con effetto solutorio, quindi pagare in maniera efficace all'interno del metaverso. Tuttavia, anche qui, il tema giuridico di fondo è comprendere se quell'atto, quell'atto di pagamento, ha dalla sua una norma o un complesso di norme che ci permette in relazione all'atto negoziale rispetto al quale quel pagamento afferisce di classificarlo come effettivamente un pagamento. Da questo punto di vista è interessante notare come alcuni meccanismi di gestione delle transazioni all'interno del metaverso in qualche modo contengono già una chiave di risposta, perché prevedono un insieme coordinata di atti cui l'obiettivo non può che essere quello di perfezionare un trasferimento giuridico, quindi ad esempio trasferire un asset rappresentato da un NFT in cambio di un certo quantitativo di criptovaluta. Il tutto gestito tramite uno smart contract che ha naturalmente una sequenza di step che devono essere rispettati e in qualche modo noi vediamo un atto perfetto nella sua completezza. Tuttavia dobbiamo sempre ricordarci che se il metaverso è collegato in qualche modo al mondo reale, ecco che allora dobbiamo guardare anche le norme del mondo reale e capire in particolare quali norme si vanno ad applicare a un determinato atto. E qua un ulteriore elemento di complessità è il fatto che il metaverso per definizione è un ambiente aperto a tutti e quindi ben possono esserci delle parti contraenti residenti in paesi diversi, quindi soggette a ordinamenti diversi, magari portatrici di idee giuridiche, di istituti giuridici diversi. Tra tutti faccio un esempio molto breve, il principio consensualistico della vendita. Tantissimi ordinamenti lo adottano, ci possono essere ordinamenti che invece non lo adottano, ecco che allora le parti contraenti potrebbero non essere del tutto allineate su quello che possiamo considerare un atto di vendita perfetto. Questi sono chiaramente discorsi più complessi che riguardano appunto il rapporto tra metaverso e il mondo esterno. Allora io ringrazio per questa intervista Alessandro Negri della Torre e Roberto Garavaglia che ritroveremo in occasione della prossima edizione di Forum Banca il 29 settembre a Milano, in particolare Alessandro sarà appunto endorser del Fintech Smart Village e a presto e grazie per averci seguito.